Quest'oggi siamo su Takeshi Castle, vorrei dire che questa sarà una gara, vorrei dire che questa sarà una sfida, ma la realtà delle cose è che sarà già un miracolo se riusciremo a finire la mappa, figuriamoci a sfidarci, a riuscire ad arrivare primo o secondo, queste cose non esisteranno, gli offeri dovremo collaborare per cercare di finire questa mappa, ma ci sono non so quanti livelli, non so quante cose difficili e sarà davvero dura riuscire a farle. E ragazzi, come va? Io sono Fereniki e oggi siamo qui su Takeshi Castle, questa mappa è davvero fantastica e proprio una riproduzione perfetta di tutti gli ostacoli più belli della trasmissione e speriamo bene Steph, speriamo bene. Già, diciamo che a differenza degli ostacoli che sono fatti bene, gli atleti non sono proprio pronti, quindi... No, ma allora, poi c'è da dire che sappiamo benissimo tutti che la trasmissione la si guardava solo per vedere le persone fallire miseramente, cioè neanche te ne fregava se completavano il percorso perché stavi già ridendo e ti bastava così, quindi non è una bella cosa. Allora, so già che questo oggi impazziremo, partiamo, per adesso proviamo a stare con tre vite a testa e vediamo dove riusciamo ad arrivare, dopodiché decideremo come andare avanti e come proseguire perché sinceramente sono abbastanza spaventata. Allora, Ferre, per adesso è abbastanza semplice, guarda, dobbiamo scalare qui, semplice, semplice, tranquillo, però ho già guardato un pochettino qualcosina, qui c'è la prima cosa. E io me lo ricordo questo, eh. Allora, e allora come funziona, vai. Allora, devi entrare in questa sorta di labirinto e trovare la porta giusta che ti permette di uscire dall'altra parte. Esattamente, allora, Ferre, se mi segui ti porto all'uscita perché lo sai che con i labirinti me la cavo abbastanza, se non mi segui ti perderai per sempre. Dici. Sì, 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 guarda, 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 secondo me è qui. Come hai fatto? Qua dobbiamo fare dei salti, Ferre. Sì. Parto io o parti tu? Vai, visto che hai dimostrato di essere molto fortunato, vai, Steph. Ok. Ti cedo l'onore. Non credo che qui basterà la fortuna, provalo. Uno. Due. Ecco qua, ecco qua, te lo stavo per dire, Steph, perché infatti ricordavo che qualche, come si dice, pedana è quasi là, quindi caschi di sotto. Eh, ma come facciamo a sapere se lo è o meno? Non lo sai, le devi provare. Aspetta, forse lo so, fammi provare di nuovo. Comunque una vita in meno. Se io do un colpetto. Ma non ci arrivi a dare un colpetto, Steph, cadi in acqua e muori di nuovo. È vero, è vero. E allora devo essere pronto a livello di riflessi, tipo tacchete, tacchete. Ok, sono ancora vivo. Sono ancora vivo. Ferri, attento a questa qua dove ho saltato io, questa centrale, ti fa cadere. Quindi vai in quella. Esatto. Credo che questa fianco a me sia buona perché non avresti modo di saltare nella mia. Secondo me casco. Ok, ci sono, ci sono. La centrale adesso non può riesce. Non può, vero, Steph. No, non può, non può. Io sono ancora ferma qui, Steph. Ho paura. Non sono mica morto. Non so che fare, Steph. Ferri, non mi ricordo più qual era la combinazione. Aspetta, aspetta, aspetta. E neanche io mai ricordo più. Ta. Ta, ok. Ok, tutta a posto. Ok, ce l'hai fatta. Tutta a posto, tutta a posto. Allora, io provo questa. Vai. Oh, cavolo. Perfetto. Perfetto. Allora devi arrivare da dove sono io, quindi fare la mia strada. Comunque io ho una vita efferene a due. E andare in questa qua, che per forza non casca. Adesso questa centrale non casca. Mamma mia, che paura. Vado. Vado. Oh. Cavolo, io non me la ricordo, Steph. Allora, Ferri. Allora, ascoltami. Ascoltami. Aiuto. Non me la ricordo più. Hai presente le porte delle mappe e degli hobby su Roblox? Sì, sì, certo che me le ricordo. Ok, anche qua. Però qua devi azzeccare su una porta su quattro. Come faccio? Non lo so. Allora, la prima è sempre centrale perché vuole essere gentile il gioco. La seconda è quella tutta a sinistra. La terza è quella tutta... Quella, vai. Questa o questa? Quella. Questa. Non fidarti mai più di me, Steph. Allora, la seconda... Centrale e poi tutta a sinistra. Me lo dovrò ricordare per dopo. Rieccoci qui, che bella questa mappa. Che bella. Qua. Qua. Dopodiché sappiamo che non è qua. Ok. Potrebbe essere questa, potrebbe essere... La scelgo io, dai, perché non è giusto che comunque metti a rischio solo le tue vite. Io provo questa. Ok, è andata. Quindi... Che fortuna. Seconda centrale. Tutto a sinistra, tutto a destra. E adesso secondo me non sa... Io provo questa. Ok. Vado. E io questa. Ti ha azzeccato. Io, 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 io. È azzeccato? Sì, 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 sì. Siamo andati avanti, Fere. Forza, 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 forza. Ok. Allora, te le ricordi? Sì. Centrale e sinistra. Tutto a sinistra. Tutto a destra, centrale e di destra. Perfetto. Ah, quindi è finito. Ok. Sì, 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 sì. Questo ci abbiamo fatto. Adesso noi dobbiamo andare di qui e dobbiamo entrare in questo posto molto triste, cupo. Allora. No, dai, non mi piacciono questi con la pedana. Allora, no, no, no. Perché tu vedi una pedana che gira. Ok. Vedi che c'è una rete? Ovviamente, se tu arrivi alla rete, sbatti, cadi, muori. Quindi cosa succede? Come facciamo? Devi costantemente riandare verso il centro quando c'è la rete e poi saltare quando ti dà la possibilità. Allora, vado? È una alla volta. Ho scatato. Aspetta. Non so perché anche a me è scatato. Ok, ok. Allora, non ero solo io. Perfetto. Ok, vai. Aspetta. No, vado dove c'è. Sì, è in quella pedana. Non dirmi vai tutto il tempo alla fede. Vai, Steph. Io ti spacco la faccia, giuro. Ma non ci riesco. Ho paura, ok? Se vuoi andare tu e tu. Vai, Steph. Però io ho paura. Se mi dice un centro vai, mi butto in acqua direttamente, te lo dico. Vai. Ok. Ma è velocissimo! Ah, ci devo provare. Aspetta, ti aspetto, ti aspetto. Vai, pronta, eh. Ce la puoi fare. Bravissimo. Guarda, eh. Guarda. Ok, ok. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Adesso devo ricorrere qui. Salta. Il campione del mondo, Steph. Ce l'ho fatta. Ok, brava. Brava. Adesso devi ricorrere nella piattaforma quando arrivi, dove sono io. Sì, ovvio. Vai. Salta, fede. Sì. Oh, era difficile. Trevava tutto. Ma come è possibile? Te l'ho detto. Questo era davvero, davvero complicato. Comunque io sono morto due volte. Questo come lo facciamo? Ci sono delle porte ogni tot. Ah. Non so bene come. Eh, ma sono molto veloci, sti massi. Sono molto veloci. Allora. Allora, ascoltami. Osserva insieme a me e ascoltami. Ok. Arriva a un certo punto, sbatte e va molto verso destra. Ok. La mia teoria è che se stai tutta a sinistra, non ti prende. E quindi puoi entrare nella prima porta. Sì, ho capito. Ci provo io? Vai. Ok. Prendi bene il tempismo, Steph. Mira. Tutto ok? Non sono caduto, Fede. Sì, questo è caduto. Hai visto male. T'ho visto bene, Steph. Hai visto malissimo. Ok. Sì. Ok. Avevo ragione. Ok. Allora, aspetto questo e poi vado. Ok. Vado. Dai. Fede. Vado. Vado. Ci sono, ci sono, ci sono. Non ti vedo. Ci stiamo? Più o meno, molto stretti. Molto stretti. Allora, adesso ovviamente non so più cosa dobbiamo fare. Perché questo l'ho notato subito. Ma adesso cosa facciamo, Fede? No, Steph, è impossibile. Ok. Aspetta. Aspetta. Ok. Come fai ad arrivarci? La vedi che l'altra è troppo veloce? No, 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 no. Ce l'ho fatta. Devi uscire non appena ti sorpassa e correre come una setta e ce la fai. Ok. Allora, a questo punto... Ci provo. No, adesso però... Ok. 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 Devo andare proprio non appena passa. Ora. 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 Uuuuh. È fatto. Sì, bene. È stato difficilissimo. Pena ti supera la palla, esci fuori e vai di shift e rientri a sinistra. Vai. Ok. Ok, brava, brava. Devi rifare la stessa identica cosa un'altra volta. Non lo voglio più fare. Proprio uguale, uguale, uguale. Ok, vado, vado, vado. Vai. Bravissima, bravissima. Dai che ce l'hai fatta, Fer. Dai, su, 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 su. Sono molto felice, Fer. Allora, adesso... Che succede? Ci sono... Questi buchi? Uno, due, tre, quattro, cinque buchi. Dobbiamo scegliere quello corretto. Io vado. Credo. Io vado. Ok. Vado in questo. Fer? Ok. Tutto a posto? Sono in acqua. Arrivo. E sono morta. No, 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 no scendere, Steph. Dove sono io? Ok. Scegliene un altro. Vabbè, devo morire, è giusto così. L'ero sceso. Brava, Fer. La tua scelta non ha funzionato. Ah, proviamo... Dai, prova a scegliere tu che sei sempre fortunato qui. Ciao. Quello. Sento rumore di acqua. È una cosa buona, è una cosa negativa. Però là non sono morto. Eh, ma anch'io non sono morta subito, eh. Sono rimasta tantissimo. No, no, ma non sto prendendo danno, però. Fer. Tu giusto. Eh. È l'ultimo, Steph. Dimmi che è l'ultimo. Eh, che ne so. Dimmi che è l'ultimo. Non ho idea. Allora, una, credo che per qualche strano bug sia bloccata. Ok. Quindi ringraziamo il cielo che esistono i bug nella vita. Aspetta, aspetta. Non è che si muove quando tu passi? Fer, guarda. Sto tremando dalla paura il mio personaggio. Io ti vedo tranquillo. No, no, sto tremando dalla paura. Non ho tanto. Allora. Io mi attacco a te. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E mi ha preso in faccia. E mi ha preso in faccia. Bravissima. Proprio. Un applauso per Fer e Consolini tutti insieme. Ottimo tempismo. Allora. 3, 2, 1. Mi ha tagliato i capelli, la seconda. Devo essere sincero. Mi ha ufficialmente tagliato i capelli. Ok, Fer, ti stiamo osservando tutti. No, non lo voglio fare. Ti stiamo osservando tutti. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, Fer. Basta che appena la vedi, shifty. Dimelo tu, un 3, 2, 1. No, no, no. Non voglio la responsabilità. Ah! Ok. Avanza un bel po'. Avanza, avanza, avanza. No, mi prende. E fai la stessa antica cosa. Bravissima. Andata. Andiamo, 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 andiamo. Ok, a questo punto. Vedi, comunque, sì, quella lì è buggata, poverina. Sì. Meglio così per noi. Meglio. Però è buggata. Allora, Fer. E adesso? Questi sono dei rulli. Eh, l'ho capito. Se noi ci mettiamo sopra, inizieranno a girare. Se girano. Se girano. Se girano. Non se girano. Che andiamo in acqua. Se, secondo te, si può camminare in questo pezzo di ferro? Ah. Vado, Steph. Brava. Vado. Vado. Bravissima. Non bisogna ascoltarti e andare dritti. E questo è il segreto. Ma che segreto. Per le trappole migliori. Ma di che cosa? Ciao, Steph. Ti vedo in acqua. Per le trappole migliori. Per le trappole migliori. Con lo shift? Me lo spieghi? Si può correre. Me lo spieghi perché non ci ho pensato? Ma si può fare che così me l'ha figata. Però non si fa così. Si che si fa così. No, nella trasmissione si faceva saltare. E io corro. E io corro. Perché sei scarso, Steph. Allora. Abbiamo scoperto i tuoi punto debole. Allora. Non lo dimenticherò mai. Va bene. Fai quello che vuoi e adesso andiamo avanti. Non ho capito questo, sinceramente. Questo è un ascensore, Fere. Anzi, è una funivia più che un ascensore. Fere. No, non partire senza di noi. Aspettaci. Fere, credo che ci sia un problema. Com'è partito? E mi sa che dovevamo esserci dentro noi. E invece... Ma cavolo, adesso? Tornerei indietro? Non credo. Forse? No. Hai capito? È una trappola. Cioè, tu ci stai sopra e ti butta giù. E quando devi scendere? In quel buco lì, in quel caminetto, secondo me. Ok. Allora. Apri, apri. Fere, ma... Ma smettila di andare da solo! Fere, è al volo, eh. Sei pronto? Appena arriva, aprila subito. Inizio ad aprire la porta. Vai, 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 vai. Ok, ma ci ho sbattuto la faccia. È quello, è quello che... Anche a me è successo quello prima. Ci ho sbattuto la faccia, si richiude ed è partito. Che dissi deve fare? Vieni. Oh, mamma. Ok. Allora, dobbiamo premere questo... È partita? Sì. Ok. No, non c'eravamo. Allora, quindi ho capito. Noi non abbiamo minimamente visione da dentro l'ascensore. Quindi dobbiamo un minimo calcolare il tempismo e azzeccare quando buttarci. Insomma, no? Ok. Allora, secondo me, se vado da solo è più semplice. Parti. No, dai, Steph, perché mi devi mollare da sola? Aspetta. L'ho bagato. No, 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 no. L'ho bagato. L'ho bagato. Guarda, Fere. Ma dai! Sto volando! Buttati! Non sono riuscito a buttarmi. Te lo sei richiuso. Te lo sei richiuso. Non è possibile. Sto tornando indietro? No, adesso ti butta giù e torna indietro. Allora, fammi calcolare. Resteremo qui per sei ore. Allora. Sono uno. Aspetta. Due. Non è vero. Non è per niente vero. Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Sono dodici secondi. Io mi butto a sei. Vado da solo. Ma tu hai. Fere, non mi inter... Sai cos'hai sbagliato, Steph? Sali da sola. Non sbagliare ad aprirlo. Quindi tieniti defilata così non ci sbatti la faccia. Ci sali. E ti butti dopo cinque secondi cadendo miseramente in acqua. Ok? Ma adesso vedrai. Secondo me cadrai. Vai, vai. Sì, sì. Almeno un pochettino di più a fianco. Vai. Vado. Ok. Buona fortuna. Avvisami quando parte. No, devi farlo partire. Ah no, sta partendo. Parte. Sì, ok. Ora! Ma apriti! Perché non si apre sta cosa? L'hai mancato, credo. Però ce l'ho fatta. Cosa? Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Bene, come hai fatto? Non lo so. Io non mi ho metto contato fino a cinque, ok? Sì. Poi mi si è buggato e non si apriva. Mi si è aperto circa due secondi dopo. Sono cascata e c'era il... Come si dice? C'era la piattaforma e sono arrivata qui al traguardo. Perché ti teletrasporta qui sopra. Quindi io ho vinto. Abbiamo finito! L'hai rotto. Che bravi che siamo! L'hai rotto pur di non finire l'ultimo ostacolo. Ti meriti solo bastonato. Non me ne riuscirei a dare. Non ci riuscirei mai fare, hai capito? Aia, aia, lasciami parte. Ce l'hai meritate. Comunque siamo nella cima perché siamo riusciti... Sono riuscita. Sei riuscita a finirlo e hai conquistato il castello di Takeshi Castle. La mappa è davvero carina e super divertente. I livelli sono davvero, davvero complicati. Credo che con tre vite sia totalmente impossibile. Devi essere molto bravo e conoscerla già, secondo me. Adesso magari riprovandola, ricordandoti dei percorsini, probabilmente... Secondo me nel caso possiamo provare ad organizzarla con Lion. Anna o Espie e Luca o tutti insieme addirittura. E divertirci e vennerli impazzire. E rimpazzire anche noi perché tanto non riusciamo vivi. Sì, sì, sarebbe divertente. Però in quel caso potremmo davvero provare a fare un torneo a chi riesce a finirlo con meno morti. Potrebbe essere interessante. Perchè se vi esiste tutto, lasciate un bel like. E se la prima volta che avete visto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao!